Il Sai porta in Italia il piano Obama per la riqualificazione degli edifici pubblici, 14 miliardi di dollari investiti, 140 miliardi di ritorno per la filiera. Viene il Sai a parlarne. Noi abbiamo appena detto che questo è il settore, non un motore della crescita, ma il motore della crescita di un paese. L'America lo sta dimostrando. Contrariamente all'America noi abbiamo dei limiti che sono determinati dal fatto che l'America può stampare moneta e può buttare nel mercato, mettere e immettere nel mercato tutte le risorse che gli servono, tant'è vero che adesso sta frenando. Mi sembra che la Banca Centrale Europea Draghi stia facendo un buon lavoro. Rimangono sul tavolo le questioni del rapporto con Europa. Noi intanto prendiamo con la legge di stabilità e iniziamo a dare segnali forti di come, prendendo quello che abbiamo ottenuto con forza anche in Europa, come investimenti in infrastrutture non sono costi, ma sono una spesa buona per il rilancio del paese. Grazie.